Buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del One Next Fest di Firenze. Quest'anno il One Next Fest è dedicato al tema dei confini. Appena uno nomina gli alieni gli viene chiesto, ma tu ci credi? Mi piacciono i confini perché sono fatti apposta per scavalcarli. Nel mio lavoro è proprio così, non esistono i confini. Noi arriviamo al confino e presentiamo il passaporto e il migrante tutto questo non ce l'ha. Il migrante non è mai gradito nemmeno quando arriva nella sua stessa etnia. C'è questo scontro storico fra paleomitani e catanesi, che noi diciamo arancina e loro sbagliando dicono arancino. Incomincia scherzando, si dice a cazzotti, a testate. Oggi internet non è più una idea romantica. La rete è nella nostra vita. Voi vi trovate davanti anche a hater. Ho un rapporto con l'hating. Ho bisogno di qualcuno che mi odia. Un primo luogo perché impari tantissimo. In questo momento siamo persone esposte e da casa o nei social ci sarà qualcuno che dirà guarda Fiorello. Secondo me tutto ciò che è digitale e moderno deve esistere perché meno male che c'è e va affiancato a quello che già c'è. Manca questo contatto secondo me con gli oggetti. L'aspetto analogico delle cose. Appartenendo a un'altra generazione ho rispetto ma per esempio non ho profili social. E' un'altra generazione. 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 Per l'Italia di una società americana. Di sera con i pantaloni mucati a fare gna. Se riusciamo a comunicare alle persone che è cool essere un PM antimafia. Non è soltanto una scelta di vita pesante e basta. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E' costruire sapere e potere. Financiare alla perfezione. Non ci sarà mai il tempo di fare quello che ci va. 50.000 lacrime, la luna piena. 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 La luna piena.